Parlare di cultura e di libri nella Sardegna medievale significa avvicinarsi a una serie tanto diversa quanto varia di fonti. È infatti molto difficile trovare un insieme organico di documenti che sia capace di chiarire il livello di alfabetizzazione e di diffusione della cultura. In particolare, ci si deve rivolgere alla documentazione delle cancellerie sovrani, sia quelle giudicali sia quelle aragonese, agli ati notarili e fino anche alle carte private di tipo patrimoniale. Se questa dispersione non facilita il compito dello storico, le notizie che vengono così ritrovate consentono di riscoprire alcune caratteristiche a proposito della relazione tra la società sarda medievale, la cultura e il mondo del libro. Basandoci sulle lezioni del dottor Giovanni Serreli, che è già offerto il quadro politico e istituzionale di riferimento, e della professoressa Simonetta Sizia, che si è soffermata sulla diffusione degli ordini monastici, è bene circoscrivere la nostra indagine, precisando che le coordinate cronologiche che prenderemo in considerazione abbracciano quel periodo storico che dal XII secolo ci porterà fino alla fine del Quattrocento. Si tratta di 300 anni di storia, durante i quali l'isola passò dalla civiltà giudicale a quella aragonese. In questi 400 anni furono tanti gli ambienti sociali che risultarono alfabetizzati, vicini alla cultura e al mondo del libro. Durante questa breve chiacchierata ci soffermeremmo sugli ecclesiastici, sui religiosi, sui professionisti e sui nobili. Partendo dal XII secolo e soffermando la nostra attenzione sul mondo della Chiesa, è possibile trovare personalità di profonda cultura all'interno degli ordini monastici che si diffusero nell'isola. In alcuni casi, questi colti monaci venivano utilizzati dal potere politico giudicale per la gestione delle relazioni internazionali e dei principali affari di Stato. Tali impieghi sono piuttosto chiari già nelle richieste che Barisoni I d'Arborea fece all'abbazia di Monte Cassino attorno al 1182. Si domandava in particolare l'invio di alcuni fratti con un alto grado di istruzione, che fossero capaci di trattare questioni politiche anche presso la curia romana e imperiale. Ciò significa che dietro le numerose fondazioni e donazioni che i sovrani giudicali promossero in favore di monasteri e priorati, si deve riconoscere il tentativo di rafforzare la classe dirigente con soggetti formati e istruiti. Ed effettivamente, andando a vedere la composizione delle cancellerie giudicali, è possibile riscontrare la costante presenza dei religiosi regolari, con incarichi di guida e direzione degli uffici. Non stupisce quindi che nei cenobbi presenti nell'isola venisse portata avanti una vivace attività culturale, evidente a partire dalla redazione di testi agiografici e liturgici. Per esempio, dimostrazione della disponibilità di codici all'interno degli scrittoria e del livello culturale dei monaci che vi operavano sono i condaghi, ma anche le vite dei santi sardi, i relativi passionari, dattabili tra XI e XII secolo, e la cosiddetta silloge di Santa Igia. Questo documento, ben studiato da Giampaolo Omele, ripropone una raccolta di composizioni innografiche provenienti dalla capitale del giudicato di Cagliari, e attesta relazioni culturali con la chiesa romana di San Bartolomeo, e con ambienti scolastici internazionali, in cui circolavano testi di prestigiosi poeti musicisti, come per esempio Fuadamo di San Vitore. Sempre all'interno degli ambienti religiosi videro alla luce i primi testi storiografici. Si pensi, per esempio, al duecentesco Libellus Iudicum Turritanorum, prima testimonianza di Cronaca Sarda dedicata alle vicende del giudicato di Torres. L'opera, come ha notato Liveta Schena, consente di verificare la conoscenza e la circolazione della documentazione e dei testi negli ambienti religiosi turritani. Con il declino della civiltà giudicale e l'ingresso dell'isola nel mondo aragonese, nonostante le grandi difficoltà causate dalla guerra di conquista, gli ordini regolari conservarono il proprio ruolo culturale, contribuendo alla creazione e alla conservazione di opere e testi. In tale situazione giocò un ruolo importantissimo il convento cagliaritano di San Francesco di Stampace. La sua preziosa biblioteca potrebbe aver offerto i materiali per la composizione di un'altra non immacronaca tardoquattrocentesca, recentemente pubblicata da Paolo Maninchedda. Passando ad analizzare le figure di vescovi ed arcivescovi, le fonti ricordano i nomi di diversi soggetti dall'alto spessore intellettuale. Si può ricordare Cerchis, vescovo di Suelli tra il 1225 e il 1237, il quale prese in prestito un prezioso libro liturgico dalla chiesa cagliaritana di San Pietro Pescatore. A questa informazione, in vero piuttosto scarna, seguono quelle trecentesche. La prima che presentiamo è relativa all'arcivescovo cagliaritano Petrus Sescomnes. Di lui, che resse l'arcidiocesi dal 1348 al 1352, dopo essere stato nella Cappella Reale di Barcellona ed essere stato abbatte del monastero cistercense valenzano di Santa Maria de Bonifasar, sappiamo che possedeva un breviario. In realtà, il suo patrimonio librario doveva essere stato ben più ampio, come lasciano intendere i riferimenti a un salterio che aveva ricevuto quando serviva nella Cappella Reale e a un pontificale, oggi conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Particolarmente importante fu poi Bartolomeo Ialmar, nunzio papale di Sardegna e Corsica e Arcivescovo di Torres dal 1349 al 1352. Egli possedeva la più grande biblioteca arcivescovile trecentesca al momento nota nell'isola, composta da oltre 50 volumi liturgici, religiosi e di diritto. Il grande valore culturale ed economico della collezione non sfuggì al suo successore, il carmilitano Navasquez, che si apropriò di alcuni manoscritti. È possibile ipotizzare che biblioteche simili fossero possedute anche da altri prelatti, i quali, specialmente nell'Arborea del Trecento, ricoprirono incarichi politici di grande prestigio, come la direzione della Cancelleria Sovrana. Una biblioteca affine a quella dello Ialmar potrebbe essere stata nella disponibilità del Domenicano Guido Cataneo, toscano, marcivescovo arborense tra il 1312 e il 1339. Questi fu teologo e cancelliere Diogone II d'Arborea, ma soprattutto fu il suo ambasciatore plenipotenziario durante i negoziati preparatori all'alleanza con il re aragonese Giacomo II. Dunque una figura di alto livello, certamente di alta cultura e non lontana dal mondo del libro. Passando adesso al mondo delle professioni, si possono ricordare i giuristi, i professionisti del diritto e della medicina, tra i quali emergono soggetti di alta cultura, con prestigiosi percorsi universitari e con disponibilità librarie importanti. Tenendo conto dei diversi livelli formativi e professionali acquisiti, si può partire dai grandi giuristi e funzionari che, conseguiti i titoli universitari negli Atenei europei, al rientro nell'isola venivano chiamati a ricoprire le principali cariche amministrative. Il livello culturale di tali incaricati traspare, per quanto riguarda il mondo giudicale, dai codici di leggi, ossia le cartas del logo. La redazione di queste carte dovete poggiare proprio sull'operato di professionisti e giuristi di indubbia capacità, verosimilmente proprietari di importanti biblioteche specialistiche. A causa della scarsa documentazione, al momento questa resta una semplice suggestione. Diverso è il riferimento sul grado di alfabetizzazione che si può trovare a proposito dei funzionali degli uffici periferici. In particolare, ci si riferisce ai curadores, cui era demandato il governo e l'amministrazione della giustizia nelle curadorias. Oltre a essere esponenti che godevano della fiducia sovrana, essi dovevano possedere elevate competenze nella gestione del territorio e un buon grado di istruzione. Infatti, stando all'articolo 129 della Carta dei Logo Erborense, erano obbligati a possedere un esemplare del codice delle leggi da utilizzare durante la loro attività. Sempre nella stessa carta, torna l'utilizzo della scrittura anche da parte degli ufficiali minori. La loro capacità di leggere e scrivere doveva essere sufficiente a consentire la registrazione di atti e la produzione dei fascicoli e dossier processuali da inviare a corte. Con l'arrivo degli Aragonesi, la fine della civiltà giudicale e la costruzione dell'apparato amministrativo del nuovo regno, nell'isola divenne sempre più necessaria l'attività di funzionari ed esperti di diritto. La presenza di questi soggetti è già chiara scorrendo i nomi dei partecipanti ai primi parlamenti del regno e lo diventerà ancora di più in seguito alla graduale stabilizzazione e ristrutturazione istituzionale portata avanti da Ferdinando il Cattolico. In questo contesto emergono anche le figure dei notai, professionisti privi di titoli universitari ma formatesi in apposite scuole e durante lunghi periodi di praticantatto. Essi prestavano quotidianamente servizio presso gli uffici centrali dell'amministrazione o nelle scribanie minori, permettendo il funzionamento delle istituzioni statali e urbane che necessitavano di documentazione con validità giuridica. Oltre a possedere grande competenza nella scrittura e nella lingua latina, queste figure conoscevano le istituzioni del diritto canonico e civile, erano in grado di operare come procuratori e potevano gestire i complessi interessi commerciali e finanziari dei fioratari, mercanti e istituzioni religiose. Tra i nomi di notai proprietari di libri, probabilmente anche di tipo professionale, nella Cagliari di fine Quattrocento si potrebbe segnalare quello di Petrus Pau e quello dell'algherese Galserandus Ram. Profonda specializzazione è la richiesta anche ai medici, che con loro professione riuscivano a garantirsi un alto tenore di vita e una sicura ascesa sociale. Per quanto riguarda la prima notizia medico-libraria, ci si deve rivolgere alla Cagliari Pisana, con Petrus, dottore in medicina, che entro il 1230 donò un messale alla chiesa calaritana di Santa Maria di Portugrutis. Se sul personaggio non si possiedono ulteriori informazioni, nei secoli successivi sono meglio delineate le figure di Guglielmo Labrutti e Simeon. Pisano stabilitosi a Cagliari con la famiglia e morto nel 1312, Guglielmo possedeva una vasta biblioteca di argomento medico composta da oltre 40 volumi. Il secondo, invece, era un ebreo calaritano che, nel 1341, aveva realizzato una sinagoga nella propria abitazione. La notizia è interessante perché ricorda la presenza di volumi utili alle pratiche di culto svolti all'interno del Tempio. Passando al secolo successivo, ci si imbatte nella figura di un altro ebreo, Genattano di Bonaventura, volterrano trasferittosi a Cagliari tra il III e il IV del Tempio del Quattrocento per seguire gli affari commerciali della sua famiglia. Egli dovete godere di una grande fama, tanto da diventare medico del vicere Nicolás Antonio de Montis e del marchese di Oristano Antonio Cubello. Per quanto non si conoscano notizie su una sua biblioteca, è verosimile che egli possedete una collezione composta da volumi di religione e medicina, come lascerebbe ipotizzare il riferimento a un tentativo di invio nell'isola di codici da parte di suo figlio Samuele. Sempre nel Quattrocento è possibile censire la figura del valenzano Ausia Torreia, membro di un'importante famiglia di medici legata alla curia pontificia e fratello del vescovo di Santa Giusta, Gaspar. Dopo gli studi universitari, a partire dal 1462, Ausia è attestato a Cagliari. Tale profilo professionale e culturale lo rendeva un possibile candidato a possedere un'importante biblioteca scientifica, di cui è effettivamente rimasta notizia nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Il prestigioso volume, infatti, segnala come presente nella collezione Sarda del Torreia un testo di Archimede cui il da Vinci era particolarmente interessato. Stando a recenti studi portati avanti dalla Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, tale notizia non dovrebbe essere successiva agli anni 1513-1514, per cui è possibile che fino a questa data il volume fosse in possesso del dotto medico. Per possibilità economiche e posizione sociale, i nobili erano particolarmente vicini al mondo della cultura e di conseguenza non stupisce che nelle loro case potessero trovarsi preziosi biblioteche. Naturalmente, per contestualizzare tali presenze è utile distinguere tra gli esponenti delle famiglie reali e le personalità che gestivano patrimoni feudali e ricoprivano le principali cariche istituzionali. In epoca giudicale, nella prima categoria possono collocarsi i sovrani e i loro familiari. La prima attestazione di tal genere è quella del 1190, quando Barisone II di Torres propose al sacerdote Gavino De Vare un libro in cambio di un terreno. Se su questo codice e manoscritto non si hanno informazioni, se non il riferimento del valore di mezzalibra d'argento, le donazioni in favore degli ordini monastici e le richieste di invio di religiosi per fondare nuovi centri di culto consentono di intravedere l'attenzione dei sovrani giudicali per tali manufatti. In tal senso è significativa la carta del 1205, con la quale, committa secondo di Torres, celete ai cistricensi incaricati di fondare l'abbazia di Santa Maria di Padulis una cifra pari a 2000 bisanti per l'acquisto degli oggetti liturgici necessari, tra cui i libri. Per il secolo successivo è possibile segnalare la figura di Mariano IV d'Arborea. Figlio di Iovone II, si dimostra un signore irrisoluto, capace di ammodernare il giudicato emanando la carta dei logo e il codice agrario e di condurre le trattative diplomatiche e le strategie militari che, nei suoi piani, avrebbero dovuto portare alla sconfitta degli aragonesi. Per quanto non fosse stato formato per il trono, già che era il secondo genito, si può evincere che il livello culturale di Mariano fosse piuttosto elevato o quantomeno proporzionale al suo rango sociale. Era in radio di usare il sardo, il catalano, l'italiano e il latino e conosceva l'astrologia di Ptolomeo. Per quanto riguarda la sua istruzione, è noto che dopo essersi formato presso la corte oristanese, nel 1331 partì verso quella barcellonese per essere educato secondo gli standard dei principi aragonesi. Nel 1359 si può datare l'unica indicazione su un libro posseduto dal giudice. Durante un incontro segreto in cui veniva pianificato un attacco alla città di Cagliari, a tal Johannes Sart fu chiesto di giurare su una Bibbia che lo stesso Mariano custodiva nelle sue camere. Tralasciando lo specifico utilizzo per il giuramento, pratica comune per tutto il Medioevo, è probabile che la Bibbia conservata negli alloggi privati fosse più generalmente utilizzata dal giudice per la devozione personale e forse parte di un più vasto patrimonio librario. Per quanto riguarda l'aristocrazia giudicale, sono gli atti di fondazione dei nuovi monasteri a suggerire alcune annotazioni, come nel caso dell'accessione del priorato di San Nicola di Solio e Cassinesi, datata 1122. Gli artefici di tale atto furono i nobili turritani Furatto De Gittil e Susanna De Zori, i quali, in aggiunta a beni mobili e mobili, affidarono alla Chiesa ben 13 volumi liturgici. La notizia permette di riflettere sulla ricchezza e sulla presenza del libro in quella famiglia aristocratica, forse esempio di una classe nobiliare giudicale che poteva godere di vasta disponibilità di volumi nelle proprie case, oppure che era in grado, tramite particolari canali di approvvigionamento e produzione, di procurarli. A queste brevi considerazioni si possono poi aggiungere quelle relative al periodo ragonese. In quest'epoca è infatti facile ritrovare notizie su codici e libri tra i patrimoni delle grandi famiglie aristocratiche che avevano ottenuto i titoli feudali. Queste, portando avanti attività commerciali, erano in continua relazione politica ed affari con le altre regioni del Mediterraneo iberico e controllavano le cariche amministrative più importanti del Regno Sardo. Per esempio, si pensi al prezioso libro d'ore che il vicerei Nigo Lopez de Mendoza si fece inviare da Napoli, o alle varie biblioteche presenti tra i patrimoni delle grandi famiglie aristocratiche, come gli Aymeric, i Carroz, i Seyent e così via. Essi, oltre ad avere un alto livello culturale, potevano vantare decine di volumi di argomento giuridico, geografico, letterario, storico ed emozionale. Sempre nell'alta aristocracia cittadina e feudale si trovavano le nobildonne, per le quali è ipotizzabile un'istruzione avvenuta tramite precettori privati oppure all'interno dei luoghi religiosi. Il primo riferimento cronologico a libri di pertinenza femminile è piuttosto labile e riguarda la sasserese Orietta. Suo marito, inizialmente vicino al governo ragonese, divenne partigiano dei Doria durante le rivolte degli anni 40 del 300. Fu per questo motivo che nel 1347 la famiglia subì il sequestro dei beni, tra i quali si trovava un libro cartaceo che Orietta dovette consegnare ai funzionali reali. Del secolo successivo sono i più precisi riferimenti all'oristanese Scrina Calau, sposa del nobile catalano Santidoria. Scrina, che già aveva donato un messale ai francescani di Oristano, nel 1431 stabilì un lascito di 35 lire per gli stessi fratti, i quali avrebbero dovuto impegnare la cifra nell'acquisto di un nuovo libro liturgico da utilizzare per la celebrazione della messa. Simili sono anche le notizie successive, relative a Isabel de Bessora e Brianda Carroz y Demur. La prima, ereditiera del feo di Villasor, era consorte di Salvatore de Alagon. La sua famiglia, in seguito al disastroso esito della ribellione compiuta dal marchese di Oristano, Leonardo de Alagon, aveva subito il sequestro dei beni. Solamente nel 1480 la donna riuscì a farsi restituire quanto riconosciuto di sua proprietà, tra cui due mesali e un prezioso libro d'ore. Straordinaria è anche la figura di Brianda Carroz y Demur, vedova di uno degli uomini più influenti dell'isola, ossia il vicerre Nicolau Carroz. Il suo sterminato patrimonio feudale le permise di controllare una gran parte dell'isola e di stringere relazioni commerciali ed affari con mercanti locali e internazionali. Stando al suo inventario, steso a Cagliari nel febbraio 1487 e attualmente in fase di studio, Brianda possedeva diversi libri, di tipo liturgico, devozionale e letterario. Oltre a quelle già indicate, anche per altre componenti sociali è possibile dimostrare un alto livello culturale e censire il possesso dei libri. Certamente meritano di essere ricordati i mercanti, specialmente presenti nelle città costiere dell'isola. Essi avevano competenze nelle lettere e nel calcolo, strumenti fondamentali per la gestione degli affari commerciali e finanziari, soprattutto se di tipo internazionale. Tra i tanti si può ricordare la figura del sassarese Leonardo Pilialbo, funzionario della dogana di Sassari, che in casa possedeva sei volumi di preghiera e medicina. Altra categoria professionale naturalmente legata al mondo del libro è quella dei maestri di scuola. Si pensi al maestro algherese Martí de Alvena, cui nel 1469 fu sequestrata una serie di libri probabilmente utili all'insegnamento. Il tema dei maestri apre la questione su quali fossero i luoghi di insegnamento e di alfabetizzazione. Anzitutto vi erano gli spazi religiosi, come la chiesa cagliarittana di Santa Maria di Cluso, che entro il 1228 probabilmente ospitò una scuola. In questo senso infatti vanno le indicazioni sulla presenza nei suoi locali di testi di grammatica e matematica. Tale iniziativa scolastica rispondeva alle indicazioni impartite durante il sinodo di Santa Giusta, dove nel 1226 era stato deciso che almeno nelle sedi di Cagliari, Oristano e Torres venisse assunto un maestro esperto nella grammatica da dedicare anche all'istruzione del clero. Sempre a Cagliari si ricordano poi le attività portate avanti da altri maestri, sia come libera professione, sia con il sostegno finanziario dell'amministrazione cittadina. Se nel 200 l'unico nome è quello di Terramagnino da Pisa, nei secoli successivi le fonti ricordano Filippo da Pistoia, Pietro Ferrando de Fontes, Iacobus de Calatayut, Michele Redo, Giacomo Alamani e Martì de Alvena. L'elenco, pur nella sua parzialità, dimostra il perfezionamento e la diffusione del sistema scolastico. In ogni caso, se questa situazione vale per Cagliari e per le altre città dell'isola, è bene ricordare che anche nei centri periferici potevano esservi possibilità di avere un'istruzione di base. Stando agli studi di Raimondo Turtas, per esempio, si può segnalare l'esistenza di una scuola nel paese di Austis, che negli anni 60 del 400 era probabilmente tenuta dal parroco locale. Allo stesso modo, bisogna evidenziare che anche le classi popolari potevano raggiungere livelli minimi di alfabetizzazione. In tal senso, si deve ricordare il caso di Ioannes Bellucua, un agricoltore del quartiere cagliaritano di Stampace, che l'8 ottobre 1469 stipulò un contratto con Ioannes Barberani, sacerdote della cattedrale cagliaritana. Secondo l'accordo, il figlio dell'agricoltore avrebbe dovuto servire per sei anni l'ecclesiastico, il quale da parte sua si impegnava a garantire vitto alloggio e soprattutto a insegnare al ragazzo a leggere e a scrivere. Per concludere, e prima di lasciare spazio ad alcuni suggerimenti di lettura destinati a chi volesse approfondire il tema, si può quindi sostenere che la Sardegna medievale, sia durante la fase giudicale, sia nel primo secolo e mezzo di quella ragonese, conobbe interessanti fenomeni di alfabetizzazione. Ciò permise una circolazione di libri e idee, con il conseguente inalzamento del livello culturale, specialmente tra quelle che oggi definiremmo elite dirigenti. Chiaramente, questo sviluppo andò di pari passo con la complessificazione e burocratizzazione del contesto sociale e amministrativo sardo. Il necessità di un'isola che richiedeva un numero sempre maggiore di professionisti e funzionari preparati. E questi soggetti, per portare avanti la propria attività, avevano necessità di libri specifici e di biblioteche sempre più fornite e aggiornate, tanto che proprio sul finire del Quattrocento videro la luce le prime pubblicazioni a stampa legate alla Sardegna. Tra queste è bene ricordare l'edizione della Carta dei Logo e l'ufficio liturgico dedicato ai martiri turritani Gavino, Protto e Gianuario. A ben vedere, i due volumi che fecero approdare l'isola nella nuova età della stampa erano relazionati proprio a due delle categorie sociali che in precedenza abbiamo visto essere legate all'alfabetizzazione e al libro, ossia i giuristi e gli ecclesiastici. Grazie a tutti.